Lettura di Uno Stato d'animo, memoria del tempo e comportamenti urbani nel mondo comunale italiano, di Renato Bordone, pubblicato da Firenze University Press per reti medievali, disponibile in download al link in descrizione. Parte prima, capitolo secondo, il passato storico come tempo mitico. I termini tempo e mito sembrano apparentemente antitetici, in quanto il tempo, comunque percepito e periodizzato, rappresenta una dimensione in cui collocare eventi storici, circoscrivibili all'interno di una cronologia progressiva. In qualsiasi modo lo si voglia considerare, il mito, per sua stessa natura, implica invece la temporalità, il distacco dall'esperienza concreta, situandosi al di fuori del tempo misurabile dagli uomini, anche nel caso in cui si proponga ciclicamente. Anzi, proprio per questa continua riproposizione. Il tempo mitico, d'altra parte, secondo Mircea Eliade, deve essere pensato come uno stato, oltre che come un periodo, uno stato di fluidità creatrice al principio dei tempi, durante il quale tutto era possibile e che si riproporrà alla fine della storia. Si tratta, in altre parole, del tempo del caos primigenio e insieme del tempo escatologico della conciliazione degli opposti, evocato tanto dai profeti dell'Antico Testamento, come Isaia, quanto dai poeti classici come Virgilio, nella quarta egloga. Volgendo il nostro interesse alla società urbana e medievale, è evidente che l'uso dei termini mito e mitico subisce un'oscillazione rispetto all'accezione propria dei mitologi, avvicinandosi piuttosto al significato traslato di semplice modo linguistico per indicare una rappresentazione costante dell'immaginario collettivo. A differenza delle società primitive, nelle quali il tempo mitico si rigenera attraverso il rito, ciò che anche per una società evoluta si definisce tempo mitico appare anzitutto desacralizzato, ricondotto cioè a una sfera non più culturale ma piuttosto culturale. Viene cioè modificata la funzione per la quale il concetto di tempo mitico è stato elaborato, anche se può conservare le caratteristiche formali di costante rappresentativa o simbolica. Il tempo mitico della società urbana italiana appare dunque come tempo profano rispetto a una dimensione del sacro istituzionalizzato completamente assorbita dai reti del cristianesimo, ma si mostra a del pari come un tempo semisacro per quella religione della civitas, patrimonio collettivo della cittadinanza di ambigua collocazione fra la leggenda di intrattenimento, il mito eziologico e l'esortazione patriottica che, si badi, seppur troverà nei cronisti e nei poeti della matura età comunale i suoi maggiori predicatori, è già in precedenza formata e diffusa. Di tale complesso di convinzioni e di credenze di cui è permeata la mentalità cittadina e dalle quali si svilupperà una vera coscienza politica, il tempo mitico si presenta sotto due aspetti diversi che occorre considerare separatamente. Il primo riguarda il tempo della poleogenesi mitica, la cui narrazione spesso introduce i componimenti municipali. Come già aveva osservato Arturo Graff, raccogliendo le leggende medievali relative a Roma, si tratta per lo più di rielaborazione di materiale classico o di spunti che derivano dal mondo più antico, riutilizzate per l'esaltazione della città. Non mancano tuttavia sviluppi o invenzioni di sana pianta di motivi biblici o leggendari, come attestano le numerose fondazioni di città riferite a Noè e ai suoi figli e nipoti. Poco importa a tale proposito la derivazione tematica classica o scritturale dal momento che la dimensione cronica in cui la narrazione è ambientata appare atemporale o meglio antetemporale, riferendosi a eventi che accadono prima che abbia inizio la storia della città e che in qualche modo quella storia condizioneranno. Nell'economia della narrazione le manifestazioni che appaiono in questo tempo mitico assolvono il compito primario di spiegare i nomi e i caratteri propri della città. Così ad esempio nella cronaca bolagnese detta Rampona si fornisce un elenco di nobili e potenti personaggi fuggiti da Troia con Enea. Pisio, da cui fu fondata Pisa, Marsiglio, da cui Marsiglia, Nerboto, da cui Narbona, Tolosio, da cui Tolosa, e così via per una quindicina di altre città. Più avanti, nella medesima cronaca, un'ampia e distesa narrazione rende ragione della fondazione di Ravenna da parte di alcuni figli di Cam e della sistemazione del territorio circostante. Trascorsi circa 3.000 anni da questa fondazione si noti la disinvoltura con la quale il cronista si muove fra grandezze temporali mitiche in quanto è strane all'esperienza storica. Giulio Cesare fa costruire a Ravenna una porta d'oro fino e una statua il cui ventre era pieno di monete d'oro con il capo di pietre preziose. Ed allora, conclude il cronista, quella porta che prima si diceva asiana è detta porta aurea. Mito di fondazione ed etimologia fantasiosa di nome esistenti vanno spesso appaiati in queste narrazioni. Altre volte è l'esigenza di spiegare un carattere peculiare della città a sollecitare il richiamo all'immemoriale. Così per Firenze la spiegazione mitica della violenza civile della matura età comunale viene fornita da Brunetto Latini e da Dino Compagni con il ricorso all'influenza astrale del pianeta Marte al momento della fondazione della città. Spiegazione ribadita e amplificata da Dante con il riferimento alla presenza sinistra di una statua della medesima bellicosa divinità collocata sul ponte dell'Arno in tempi non precisati. L'indeterminatezza cronologica si riscontra, d'altra parte, anche in presenza di personaggi o eventi storicamente collocabili ma talmente lontani dall'esperienza o dalla sensibilità dei contemporanei da risultare ugualmente al di fuori del tempo della città al punto da essere ascritti alla sua preistoria come nel caso di Giulio Cesare per il cronista della Rampona. Lo stesso passato urbano dell'Italia, d'altra parte, imponeva origini anteriori al cristianesimo e, come ha sottolineato Jacques Le Goff, l'invenzione dei miti di fondazione remota consentiva alle città di poter rivaleggiare con la città al cui mito originario era fra tutti il più famoso, Roma. Se l'intera età pagana, secondo quanto rileva Chiara Forgoni, a proposito del Versus de Verona, è in fondo sentita come una specie di preistoria rispetto all'età cristiana, alla vera storia, che è quella inaugurata dall'Avvento di Cristo, ciò non significa tuttavia circoscrivere con rigidità cronologica il tempo mitico o quello che precede la nascita di Cristo, dal momento che proprio i tempi della diffusione del cristianesimo, densi di eventi miracolosi, manifestano nella narrazione degli autori cittadini tutte le caratteristiche del tempo mitico, compresa quella di origine e spiegazione dell'instaurarsi di certi culti particolari o di certe liturgie. Si pensi a questo proposito alla rievocazione dei primi vescovi di Milano fatta dall'Andolfo Signore e alla sua attribuzione a Sant'Ambrogio stesso dell'ordinamento della Chiesa Ambrosiana nelle forme contemporanee all'autore. Per concludere su questo primo aspetto del tempo mitico cittadino, si può affermare che il carattere eziologico appare predominante a qualsiasi tempo storico o pseudostorico il mito venga riferito, in quanto esso viene utilizzato per spiegare l'origine di un luogo o di un culto e al tempo stesso per garantire l'antichità e il prestigio da essere derivato. Appare chiaro che in questi casi la comparsa del mito non è gratuita, ma deriva dall'esigenza della celebrazione municipale. La rielaborazione dei materiali leggendari preesistenti, sui quali sarebbe opportuno indagare col metodo comparativo, e la loro attribuzione a ciascuna città con l'inserimento di elementi specifici, sono il frutto di un'operazione che denuncia lo sviluppo di una coscienza cittadina in grado di inventarsi un passato mitico e di organizzarselo in forme di mano in mano più articolate. In tale prospettiva, l'identificazione di un tempo mitico che precede il tempo storico delle città risponde infatti all'esigenza mitogenetica di poter disporre di uno stato di fluidità creatrice col quale modellare il mito delle origini. Limitiamo a questi assaggi le osservazioni sui miti eziologici delle città italiane per poterci più a lungo soffermare su un altro aspetto meno consueto, forse, ma non meno interessante della concezione del tempo mitico nella cultura urbana medievale. Già abbiamo rilevato come l'utilizzo dei miti cittadini risponda a esigenze proprie della religione profana della Civitas e di conseguenza il rapporto con quello che il mitologo Chereny definiva mitologia genuina, cioè disinteressata elaborazione di contenuti affioranti spontaneamente dalla psiche, appare subordinato alle finalità di persuasione etico-politiche. All'interno della categoria tempo mitico pare tuttavia potersi rintracciare un genere di tempo che nelle fonti sembrerebbe manifestarsi come costante rappresentativa dell'immaginario collettivo. Si tratta della rappresentazione del passato come tempo migliore rispetto alla decadenza del presente, un mito avvicinabile a quello tradizionale dell'età dell'oro. L'attenzione degli studiosi del Medioevo si è soffermata in questi ultimi anni sulle tarde attestazioni del buon tempo antico, quelle della civiltà comune all'altramonto, fornite in particolare da Dante, dal Villani e dal Malispini. Mi riferisco al contributo di Charles Davis, comparso nel 1968 nella raccolta Florentine Studies e al terzo capitolo del volume di Maria Consiglia De Matteis su Frare Migio De Girolami del 1977, repubblicato nel 1984 con il titolo La coscienza della crisi comunale nei cronisti del 300. Il problema principale che i due studiosi si pongono consiste in quale interpretazione vada attribuita alle rievocazioni nostalgiche o polemiche del tempo passato da parte di ciascun cronista. A entrambi appare è infatti chiaro che si tratta di un luogo comune utilizzato con intenti diversi. Mentre la De Matteis soffermandosi in prevalenza sul Villani e sul Compagni appare propensa a vedervi una forma di coscienza della crisi, il Davis prendendo le mosse da Dante nella ricerca dei precedenti individua riferimenti al buon tempo antico in Brunetto Latini e in Riccobaldo da Ferrara. Il ricorso al Topos si configura in tutti come un laudazio temporis acti nel momento in cui viene usato in chiave polemica nei confronti del presente ma può assumere significati morali e civili diversi. Per la De Matteis ad esempio nel 300 denuncia l'affermarsi di uno spirito nuovo rappresentato dall'intenzione morale all'interno del racconto che consente il recupero della dimensione storico-politica in un arco cronologico ben definito. la consapevolezza della crisi politico-istituzionale della Firenze del principio del XIV secolo orienterebbe dunque i cronisti non ancora in grado di elaborare un nuovo modello alternativo a ripiegare per reazione sugli exempla del passato di un passato prossimo in cui quelle strutture orre rimediabilmente compromesse e quegli ideali ormai vanificati e traditi si mostravano invece funzionanti e attivi ma in tale interpretazione l'autrice pone molta attenzione nel distinguere nei modi e nelle forme in cui i cronisti utilizzano il topos l'intento morale come espressione della matura coscienza cittadina che identifica la città con la patria sociale e politica propria del villani e del compagni dal semplice rimpianto nostalgico del buon tempo antico che emerge dalle pagine del malispini senza nessun indizio di polemica come antidoto ideologico alla realtà politica dei suoi tempi la differenza nell'uso dell'argomento appare poi tanto più evidente nel confronto fra l'atteggiamento politico dei cronisti e quello del profetico di dante per il quale il buon tempo antico sottolinea ancora la de mattheis sulla scorta del davis diventa un concetto puramente metafisico per dante infatti secondo il davis l'idealizzazione della semplicità del passato e la condanna del presente pur manifestandosi come inconscia autodifesa nei confronti delle famiglie di più recente ascesa sociale non sarebbe un puro topos retorico ma un essenziale part of a theory of history and society la proiezione nel passato dell'immagine di unità sotto l'autorità imperiale prima che le ambizioni di una falsa libertà causassero in Firenze rivalità e violenze premessa questa considerazione sulle divergenze nell'uso del topos gran parte della ricerca del davis è rivolta a riscontrare analogie e differenze fra dante e iconisti in particolare per valutare il rapporto fra il villani e il malispini un argomento di cui già da tempo si era occupato raffaello morgan e che sarà ripreso in seguito da uno studio apposito della de matteis non è compito nostro ad entrarci in tali problemi se non per quanto concerne l'uso fatto da questi autori del materiale mitologico relativo al buon tempo antico e diciamo materiale mitologico perché la rievocazione di un tempo felice e sostanzialmente astorico nonostante le collocazioni cronologiche parebbe proprio rivestire la caratteristica di un mito per il suo costante ricorrere alla produzione letteraria del mondo cittadino dall'undicesimo al quattordicesimo secolo pare infatti essere sfuggito ai ricercatori probabilmente intenti a circoscrivere i precedenti immediati del buon tempo antico che il medesimo tema e in forme analoghe compareva già in almeno due scrittori cittadini del periodo precomunale il milanese Landolfo Signore e il lucchese Rangherio si tratta nel primo caso della rivendicazione del tempo che precede la morte dell'arcivescovo Riberto e gli sconvolgimenti provocati dalle lotte civili e religiose che turbano Milano nella seconda metà dell'undicesimo secolo e nel secondo caso della contrapposizione polemica fra la grandezza di Lucca prima dei disordini causati dal conflitto fra gregoriani e antigregoriani e lo stato di decadenza morale e di disordine civile a esso succeduto benché i due scrittori presso che coevi militano ideologicamente in campi avversi simili appaiono il linguaggio e le immagini usati e fatto degno di attenzione in entrambi ricorrono motivi e spiegazioni che ritroveremo negli autori del 300 benché una conoscenza diretta di questi testi sia molto più che improbabile si può naturalmente postulare la conoscenza comune di modelli del topos presenti nella tradizione classica ma la genericità di questi non consente di parlare di completa imitazione da parte degli autori dell'undicesimo secolo e di quelli del quattordicesimo poiché tanto gli uni quanto gli altri integrano il modello dell'età dell'oro con elementi specifici comuni fra loro che mancano nella tradizione classica il Davis nel ricercare i precedenti della rievocazione dantesca del buon tempo antico ritiene che nella sua esaltazione della semplicità e della povertà della Firenze e delle origini comunali Dante abbia avuto presente il passo di Virgilio del secondo libro delle georgiche che esalta l'età dell'oro collocandola agli inizi di Roma ricorda poi come presumibili modelli anche le immagini fornite dalle satire di giovenale relative alla confusione delle genti che affollavano l'urbe e al contrasto fra i semplici costumi delle donne dei primi tempi e quelli attuali fra il vitto austero degli antichi e l'ingordigia dei suoi contemporanei in questo caso il modello mitico dell'età dell'oro e del tempo di Saturno conosciuto con nomi diversi da tutte le società e diffuso nella cultura occidentale dalle elaborazioni di Esiodo per il mondo greco e di Virgilio per quello latino ha già trovato una collocazione storico-temporale nel periodo delle origini di Roma e un uso funzionale in polemica con la corruzione del presente si tratta cioè dell'assunzione al luogo letterario di un mito preesistente nell'immaginario collettivo che riaffiora ogni qualvolta si verificano le condizioni che lo hanno generato la prima volta il ricorso all'immagine dell'età dell'oro nasce dalla contrapposizione contingente fra una situazione di disagio e l'aspirazione a risolverla ma una soluzione è pensata come possibile soltanto se sia già verificata nel passato i mitologi direbbero in forma archetipica in un passato tuttavia attemporale al di fuori dell'esperienza uno stato più che una durata cioè nel tempo mitico propriamente detto il clima in cui nascono le georgiche evocato nella conclusione del primo libro è quello del disordine civile della brama sfrenata di potenza e di ricchezza l'aspirazione del poeta deluso dal presente è rivolta alla serenità di una semplice vita modesta proiettata al di fuori della realtà contingente dei suoi tempi in questa prospettiva rievoca ma si potrebbe dire anche rigenera il mito di un'età in cui i conflitti bellici erano sconosciuti gli aura secola governati da Saturno sono dunque caratterizzati in primo luogo dalla permanenza della pace perfetta in quanto la produzione spontanea dei frutti della terra impediva i motivi di conflitto fra gli uomini tema già presente in Esiodo ripreso da Vergilio prima che nelle Neide nelle Georgiche a proposito dell'assenza dell'illiceità morale religiosa della proprietà privata durante l'età dell'oro dalla mancanza di competizioni discende un'altra caratteristica di questo tempo la semplicità dei costumi collegata con il mito dell'innocenza originaria di frequente uso moralistico in letteratura si veda infatti tutta la descrizione del regno di Evandro e della sua paupertes decorosa ideale comune ai poeti dell'età di Virgilio che tornerà più tardi nei satirici come giovenale per sottolineare il contrasto fra le affettazioni ridicole del presente e la semplicità dei primi tempi si può in conclusione avanzare all'ipotesi che la rappresentazione di un'età felice tempo stato mitico trova una collocazione storica o pseudo storica nel momento in cui viene utilizzata a fine retorico polemico per necessità di esemplificazione l'età d'oro si cala nella storia si identifica con un momento preciso cronologicamente individuabile e individuato se ciò vale per il caso di Virgilio di giovenale vediamo ora come lo stesso processo è applicabile agli autori medievali il primo autore di cui abbiamo fatto riferimento è il milanese l'Andolfo Signore in due passi della storia Mediolaniensis che narra le vicende della chiesa ambrosiana con deliberato intento apologetico è utilizzato al topus del tempo mitico la prima volta nel capitolo 26 del secondo libro a proposito delle condizioni di sicurezza godute dai milanesi al tempo dei duchi la seconda volta nei capitoli 34-36 del medesimo libro nei quali sono illustrati gli ordinamenti della chiesa ambrosiana e i costumi dei laici nel periodo precedente della morte di Eriberto osserviamo anzitutto che la causa che mette in moto il meccanismo della rappresentazione mitica che cioè come abbiamo detto rigenera il mito è la decadenza del presente esplicitamente dichiarata con il riferimento al fatto che erano intervenuti gravissimi dissidi tanto nel ceto cittadino quanto nel clero e giustificata da una visione pessimistica della storia universale mentre tutto va alla sua perdizione in secondo luogo occorre porre attenzione al rilievo attribuito all'assenza di conflitti nelle considerazioni del capitolo 36 che si collocano fra la rievocazione propriamente religiosa relativa agli usi liturgici ambrosiani e alla pietà dei fedeli e quella che illustra la semplicità dei costumi civili milanesi epoca senza guerra e senza incursioni di popoli vicini o invasioni di stranieri nemici era perfetta integra e gioconda come nella tradizione classica anche qui la considerazione sulla pace precede e giustifica la visione idilliaca del comportamento dei cittadini articolata su alcuni temi che verranno ripresi anche dagli scrittori successivi non c'era infatti tempo per dedicarsi all'ozio né ai piacere o alle passioni tale era la costanza che nessuno aveva dimestichezza con un'altra donna che non fosse sua moglie nessuno infine si coniugava prima dei 30 anni sinché nasceva una generazione forte sana perfetta la conclusione rientra del tutto nel topo setà sana e solida abbondante di ricchezze caratterizzata dunque dalla dovizia dei beni di sussistenza e dall'integrità fisica dove è forse possibile scorgere l'intento di esorcizzare due o tre sterealtà incombenti sul mondo medievale carestie ed epidemia epoca facile pacifica gioconda amena caritatevole espressioni in cui ritorna il motivo della pace e della serenità accompagnato da quello cristiano della carità reciproca la preeminenza della pace nella rievocazione del tempo mitico appare già evidente anche al capitolo 26 dove il motivo ispiratore a differenza di questo capitolo 36 in cui prevale quello etico civile era schiettamente politico tutte le categorie sociali al tempo dei duchi vivevano infatti secure e in pace e i cittadini tranne che nei tempi in cui combattevano lontano dalla città dunque fuori dal luogo mitico in cui si realizza l'età dell'oro godevano umilmente e devotamente della pace e della gioia ugualmente mitica appare la descrizione del governo ducale in grado di tutelare la giustizia come al tempo di Saturno ed impedire ai conflitti interni i duchi infatti procuravano amorevolmente alla città quanto occorreva e quanto era fatto senza cautela saggiamente riformavano e ciò che da alcuno fosse stato fatto ingiustamente tosto procuravano emendare dando all'ingiuriato soddisfazione erano la difesa degli orfani aiuto ai tribolati sussidio alle vedove nutrimento dei piccoli erano la legge per gli ingiusti la giustizia per i perfidi il timore per i banditi tale situazione di benessere verrà meno per negligenza dei duchi stessi e per l'insolenza dei novizi capitanei che si impossessano delle prerogative ducali con pregiudizio della libertas dei loro cittadini il motivo della libertà che rappresenta una caratteristica peculiare della cultura cittadina italiana finirà per assumere una tale rilevanza nel discorso di landolfo che ne ha appassionato sostenitore da provocare una deviazione inconsueta nella rappresentazione del tempo mitico egli a questo punto mitizza infatti la stessa lotta del populus fortissimo nel riconquistare la libertà allontanandosi dal cliché consueto della pace perfetta per imboccare la strada del mito eroico da questa contaminazione che segna inevitabilmente il distacco dalla pura riproposizione dell'età dell'oro nelle forme classiche fin qui seguite ma risponde a suggestioni della nascente metallità urbana italiana scaturisce un'implicita contraddizione nella collocazione storica del tempo mitico di landolfo che da un confronto fra i due passi dovrebbe essere cronologicamente compreso fra il buon governo dei duchi e la morte dell'arcivescovo Ariberto ma mentre Ariberto ancora regge la sede ambrosiana scoppiano i Bella Gravissima che vedono il popolo combattere contro i maggiorenti per riconquistare la libertà la sfasatura cronologica che tenderebbe a inserire tutto l'episodio di Ariberto nell'eta sintegra e sana e nel tempo specifico di Iucundum si può spiegare soltanto nella prospettiva da cui si pone l'andolfo moralisticamente durante i conflitti ben più gravi e meno eroici scoppiati in occasione dei contratti fra patarini e tradizionalisti se ne potrebbe inferire che la vera pax del tempo mitico per uno scrittore cristiano consista nella pace religiosa a considerazioni analoghe sebbene sostanzialmente da intuizioni di più lucida interpretazione sociale pare pervenire anche Rangerio che nel narrare in un lungo poema le vicende del vescovo lucchese Anselmo offre un'ulteriore riproposizione del mito dell'età dell'oro collocandola nel tempo che precedeva l'esplosione delle controversie fra gregoriani e imperialisti a Lucca culminata con l'espulsione del vescovo filo romano con un linguaggio di più evidente derivazione scritturale Rangerio prende le mosse come già l'andolfo dalle tristi condizioni del presente per giungere poi alla celebrazione della passata grandezza di Lucca una celebrazione che non si limita alla consueta laus civitatis ma assume l'aspetto di una vera rievocazione del tempo mitico il distacco fra presente e passato è ottenuto con l'esclamazione o novità o turbamento della mente la novitas è l'infedeltà ai comandamenti evangelici che interrompendo l'ordine naturale della città santificata da San Frediano ha introdotto condizioni di turbamento che il poeta descrive parafrasando Isaia la città da sposa fedele è diventata adultera alla giustizia si è sostituito l'omicidio né i ladri temono il giudizio mentre la voce dei pupilli e delle vedove è inascoltata e disprezzata assistiamo così al completo rovesciamento della situazione descritta dall'andolfo signore per la Milano sotto il governo dei duchi e realizzata con il ricorso ai medesimi elementi al quadro fosco così delineato si contrappone nella rappresentazione del passato Luca Furicca sollecitato dalla tristezza del presente ancora una volta il poeta rigenera il mito gli elementi che caratterizzano in positivo questo tempo si ritrovano infatti nelle forme consuete prima della decadenza vigevano nella società la pace e la concordia dunque il regno della pace e specificamente della pace civile mentre per Milano l'andolfo sottolineava l'assenza di conflitti esterni perché il dissidio fra Populus e Maiores gli impediva oggettivamente di parlare di pace interna Rangerio di fronte alla drammatica spaccatura della cittadinanza sul problema politico-religioso non può che idealizzare una presunta concordia precedente alla quale aspira tanto più che nel momento in cui scrive rievocando un recentissimo passato di disordini che ancora lasciava strascichi l'espressione pax et concordia stava assumendo nel mondo cittadino italiano un valore ideologico e un significato quasi tecnico-giuridico per indicare la ricomposizione degli equilibri sociali e politici il tempo della pace e dell'ordine ha come diretta conseguenza nella rievocazione di Rangerio che allora fossero in equilibrio il diritto e il giudizio e che non si verificassero delitti poiché come a Milano l'età dell'oro è il tempo dell'abbondanza dei beni materiali fra le città della Tuscia non c'è maggiore per ricchezza né per abbondanza di vino e di olio di sito gradevole mirabile per bellezza sì da non invidiare troppo se si può dire il paradiso dove vale la pena di sottolineare l'esplicito riferimento da intendersi come paradiso terrestre raffigurazione consueta del luogo mitico in cui si realizzano le condizioni dell'età dell'oro un'ulteriore notazione di eccellenza riguarda le caratteristiche fisico-morali degli abitanti del tempo mitico la bellezza dei fanciulli e delle fanciulle il cui naturali scolor non ha bisogno di belletti il valore e la prudenza degli uomini il decoro e l'onore degli anziani la massima vere condia di vergini e vedove la cura dei figli e la fedeltà coniugale fra gli sposi appare evidente che in queste descrizioni Rangerio e Landolfo si sovrappongono integrandosi a vicenda nel delineare costumi semplici ed esemplari garanzia dell'integrità della specie soprattutto nell'aderenza alla carità evangelica tuttavia il mito di un'età dell'oro cristiana suggerisce a entrambi gli autori gli accenti più appassionati tempo mitico è infatti quello in cui a Milano non vi era alcuno che ogni anno non ricevesse a pranzo in casa propria con gran devozione due sacerdoti o quattro o dodici o di più ancora e a Lucca non pensasse di adornare le sedi sacre e arricchire di doni il suo vescovado alla pace civile al trionfo della giustizia e alla celebrazione dell'abbondanza materiale e della pienezza delle virtù umane gli scrittori cristiani in conclusione non possono fare a meno di aggiungere l'exemplum della santificazione religiosa nel delineare e rimpiangere il tramonto dell'età aurea della loro città l'importanza indiscutibile di questo elemento su quale pare poggiare la riproposizione stessa del mito negli autori del tardo secolo undicesimo risulta essere in connessione con la situazione che in quel momento sta attraversando la chiesa con il travaglio dei suoi pensatori e con le tensioni scatologiche dei predicatori del ritorno alle origini evangeliche se per l'andolfo come abbiamo visto la vera pax è soprattutto la pace religiosa per rangerio la rottura degli equilibri è causata in primo luogo dall'affermarsi di una dottrina straniera cioè dal tralignamento del clero divenuto simoniaco e concubinario pur nella polemica gregoriana e negli attacchi all'antivescovo filoimperiale insediatosi sulla cattedra di Anselmo rangerio nell'analisi del declino dell'età dell'oro manifesta tuttavia lucidità di osservatore inserendo fra i tradizionali motivi moralistici l'individuazione di cause sociali che ancora più tardi risuoneranno nel rammarico di un tempo perduto espresso da un poeta come Dante Lucca dunque afferma rangerio è decaduta dalle condizioni edeniche delle origini e dissoltasi la pace fra i cittadini regna la discordia per quali cause? in primo luogo i lucchesi si sono dedicati al commercio e hanno importato costumi e prodotti stranieri e peccaminosi ma è soprattutto l'incremento demografico prodotto dall'inurbamento della campagna ad aver moltiplicato il disordine l'avvento di una genia incolta sorta dalla campagna e dalle rupi ha importato in città l'avidità di denaro provocando dissidi e separazioni fra gli abitanti la polemica contro il villano un altro topo scaratteristico della cultura urbana italiana si innesta così sull'oggettiva individuazione di una causa di destabilizzazione l'incremento demografico diventando parte della spiegazione e della scomparsa del tempo mitico un tempo la cui collocazione cronica appare più incerta di quella di Landolfo per Milano ma per il quale come Landolfo anche Rangerio individua come termine antequem il momento di sviluppo economico demografico e il disagio connesso con la crisi di crescita nella loro rigenerazione del mito e dell'età dell'oro con intento prevalentemente etico-religioso entrambi sollecitati dai disordini civili della seconda metà del secolo XI Landolfo e Rangerio pur accomunati da un'analogia di rappresentazione che molto difficilmente può derivare loro dalla reciproca conoscenza diretta privilegiano nella ricerca delle concause della crisi rispettivamente un motivo politico l'affermazione dei capitanei l'uno e un motivo sociale l'inurbamento l'altro di fatto nella dinamica della città italiana i due aspetti appaiono strettamente connessi e troveranno il loro pur sempre precario equilibrio nell'instaurazione del regime comunale che le aspirazioni alla pace manifestate dal ricorso all'evocazione del tempo mitico in un certo senso presagiscono non è forse un caso che l'unica identificazione col presente di un tempo con le caratteristiche di tempo mitico si riferisca dunque a un componimento della prossima età comunale è infatti nel liber pergaminus di mosè del brolo la cui composizione è attribuibile al primo ventennio del secolo dodicesimo che ritroviamo parecchi motivi che abbiamo indicati come tipici dell'età dell'oro a partire dal mito della pace perfetta questa volta attribuita al nuovo regime dei consoli al quale si deve anche la conservazione del diritto e la buona amministrazione della giustizia la pace aurea lega i cittadini con uno stabile vincolo in pace rimane il povero e col patto di pace anche il ricco non vigono altrove tante leggi o diritti civici o decoro o pietà o concordia pure la cui tutela è affidata ai dodici sacri uomini per poi toccare i luoghi canonici relativi alla robustezza degli abitanti all'abbondanza delle risorse senza dimenticare l'elemento epico-eroico già presente in Landolfo Signore e in Rangerio che pur distaccandosi dal mito classico della pace assoluta ben si integra nella complessiva esaltazione di un orgoglio municipale non certo inerme nei confronti dei vicini come ebbe già a rilevare il più recente editore del Liber Guglielmo Gorni Mosè appare partigiano del vescovo di Bergamo Ambrogio dei Mozzi succeduto al suo predecessore filo imperiale con l'ambizioso programma di garantire la concordia civica il pergaminus sarà appunto il manifesto entusiastico del nuovo governo e dell'egemonia mozziana che rievocando i fasti e la potenza di Bergamo antico quasi predice l'avvento di una rinnovata età dell'oro si può forse aggiungere che il richiamo all'aureus saturnus di Virgiliana memoria oltre che implicito nella rappresentazione edenica delle condizioni di Bergamo è reso esplicito dallo stesso aggettivo aurea attribuito a Pax come in un'analoga connessione anche in Landolfo Signore denunciava l'uso dell'espressione aurea mediocritas riferito al comportamento dei sacerdoti urbani del tempo di Eriberto C'è da osservare in ogni caso che negli autori cittadini il concetto ha subito una trasformazione rispetto al mondo antico circoscrivendosi alla realtà municipale assunta a dimensione universale nell'immaginario collettivo di ciascuna comunità ciò rende ragione di quell'inserimento ormai costante dell'eroismo bellico fra i valori di un'età indicata come pacifica ma come appariva già evidente fin dal passo di Landolfo si tratta di pace interna sociale e o religiosa sufficiente per quel mondo di concorrenze violente fra particolarismi politico-territoriali a giustificare in certe condizioni l'evocazione di uno stato di assenza di conflitti se l'età delle origini comunali non fu poi l'età dell'oro nel senso intravisto dal mito classico certamente la propaganda ideologica che contribuì a formare il sentimento cittadino di amor patrio operò a livello collettivo in questa direzione nessun componimento di questo periodo manifesta forse la compiutezza del quadro presentato da Mosè del Brolo ma non si può negare che elementi di autoesaltazione di motivi propri del tempo mitico non manchino anche in altri poeti municipali della premetta comunale la resistenza alla fatica e l'austerità dei costumi ad esempio sono infatti temi ricorrenti tanto nel pisano liber maiorichinus quanto nel liber cummanus oltre che nel pergaminus e non è escluso che la collocazione dantesca del buon tempo antico proprio nel secolo XII oltre che per altri motivi abbia risentito della vistosa operazione ideologica intrapresa ai primi tempi del comune un tempo storico della città assunto come tempo mitico da questo momento in avanti diventa un topos ricorrente nella storiografia cittadina a prescindere dall'uso strumentale che di esso i singoli autori in conformità ai tempi e alla loro sensibilità possono farne la struttura della rievocazione si manifesta pressoché identica negli elementi che si sono andati accumulando in modo permanente così ad esempio il mito del tempo eroico elaborato da una cultura che ha idealizzato l'ethos cavalleresco può divenire il solo luogo di confronto nella comparazione fra passato e presente offerta alla metà del 200 da Rolandino da Padova il passato che precede l'età cruenta di Ezzelino da Romano si configura infatti come l'età delle buone guerre ma già l'Andolfo signore aveva mitizzato come buona guerra quella condotta nel tempo mitico milanese dal populus contro i maiores e di secolo aureo può parlare a proposito Girolamo Arnaldi nell'interpretare la rievocazione di Rolandino di un passato vagheggiato come il buon tempo antico cortese cavalleresco e giocondo pur rilevando l'intima contraddizione del cronista nell'includere in questo tempo mitico il secondo e il terzo decennio del tredicesimo secolo che storicamente coincidono con il medesimo momento delle morti e degli esili che ancora gravano sul triste presente le oscillazioni cronologiche nel collocare il tempo mitico nel mondo comunale italiano d'altra parte corrispondono alla soggettività dell'autore e alla contingenza del momento in cui scrive ciò che appare evidente nell'individuazione del mito vero e proprio non è la scelta del tempo quanto la persistenza delle connessioni strutturali gli studiosi come si è visto si sono a lungo soffermati sulle presunte dipendenze formali fra il Malispini e il Villani fra Dante e Riccobaldo anche se la collocazione del passato mitico di ciascuno manifesta vistosi discrepanze cronologiche per Dante si tratta del XII secolo per Riccobaldo è l'età di Federico II per il Villani l'affermazione del primo popolo a Firenze ma gli elementi che compongono la rappresentazione sono i medesimi e si può dire che siano ancora una volta quelli che già comparivano nel secolo XI riferiti in quel caso al periodo immediatamente precedente Riccobaldo ad esempio in ben tre opere scritte nel primo ventennio del 300 c'è il gatto sulla tastiera io questa questa parte la tengo come easter egg non so se lo sentite che sta camminando sulla tastiera no ti voglio bene anch'io però adesso te ne devi andare ok questa parte la tengo come easter egg Riccobaldo ad esempio in ben tre opere scritte nel primo ventennio del 300 delinea contratti esaurienti i costumi cittadini al tempo di Federico II descrivendo vitto e abbigliamento sobri e modesti e contrapponendoli allo sfarzo e al lusso dei tempi suoi moglie e marito cenavano con semplicità gli uomini indossavano mantelli di pelle senza ornamenti o di lana senza pellicce le fanciulle da marito tuniche di lana rari o del tutto assenti erano loro e l'argento ornare le vesti ciascuno si contentava di ciò che possedeva cantine e magazzini non erano grandi ma ben provvisti le donne si meritavano con una dote modesta e con semplice corredo gloria degli uomini era la potenza di armi e cavalli ma commenta l'autore molte cose malvagie si sono sostituite a quelle originarie la parsimonia si è mutata in comodità le vesti si sono arricchite e impreziosite con oro e gemme bevande e cibi raffinati ed esotici sono tenuti in gran conto e per far fronte a queste esigenze di sfarzo avarizia militat e da ciò discendono i mali della società usura frodi rapine spogliazioni oppressioni e degli innocenti lotte fratricide nel villani la rievocazione appare dello stesso tono ma riferita al tempo del primo popolo i cittadini di Firenze vivevano sobri e di grosse vivande e con piccole spese e di molti costumi e leggiadre grossi e ruddi e di grossi drappi vestivano loro e le donne e molti portavano le pelli scoperte senza panno e lì recento erano comune dote di moglie e lì re 200 o 300 era a quei tempi tenuta isfolgorata le più delle pulcelle avevano venti o più anni anzi che andassero a marito e conclude di si fatto abito e di grossi costumi erano allora i fiorentini ma erano di buona fe e leali tra loro e al loro comune e con la grossa vita e povertà feciano maggiori e più virtidose cose che non sono fatte ai tempi nostri con più morbidezza e più ricchezza la notissima rievocazione del buon tempo antico di Firenze che Dante mette in bocca all'antenato cacciaguida nel quindicesimo canto del paradiso ripercorre a un dipresso il medesimo schema pur collocandolo nella prima metà del dodicesimo secolo Firenze dentro della cerchia antica si stava in pace sobria e pudica gli abiti e costumi femminili non erano lussuosi e immorali come ora il tempo e la dote delle franciulle non fuggì alla misura l'abbigliamento maschile era di cuoio ed osso e la pelle scoperta le donne si presentavano senza il viso dipinto e non erano ancora abbandonate dai mariti impegnati lontano dalla patria per l'esercizio della mercatura tutte le descrizioni sono giurcate sul contrasto passato presente ma i singoli elementi che le compongono ripercorrono uno schema fondamentale astorico già consolidato nella tradizione di impianto moralistico così Dante afferma che si stava in pace è il primo elemento che caratterizza il tempo mitico e ha un riscontro per contrasto nel riferimento di Riccobaldo alle stragi cittadine del presente causate dalla perdita dell'originare concordia in seguito del crescere dell'avarizia la Pax lo abbiamo visto è l'elemento fondante del paradigma di Landolfo Signore e di Rangerio non solo se per i due autori dell'undicesimo secolo dalla condizione di pace discendeva al mantenimento della giustizia per Riccobaldo al venir meno della pace interna corrisponde l'avvento dell'ingiustizia esemplificata dall'elencazione dei crimini che caratterizzano il malessere della società del suo tempo per il Villani nella contrapposizione grossa vita e povertà morbidezza e ricchezza emerge il declino della buona fede e della lealtà virtù connesse con la condizione edenica del passato la semplicità dei costumi grossi e ruddi tanto nel Villani quanto in Riccobaldo è già prefigurata in Rangerio sia nell'esaltazione della custodia summa pudoris delle franciulle alle quali era sufficiente il colore naturale sia nell'individuazione della corruzione di Lucca nell'importazione di prodotti e usanze esotiche ottenute dagli sviluppi commerciali commercio giudicato negativamente da Dante in quanto allontana i mariti dalle mogli e implicitamente da Riccobaldo nel criticare l'importazione di cibi esotici la contrapposizione moralità-immoralità fra presente e passato mitico che era stato uno dei motivi scatenanti della rievocazione degli autori dell'undicesimo secolo ritorna con evidenza nel discorso dantesco monogamia e fedeltà coniugale nella Firenze delle origini comunali disordini sessuali nella corruzione dei suoi tempi un'altra analogia al medesimo proposito è rappresentata dall'indicazione dell'età matrimoniale ottimale 30 anni per l'Andolfo Signore 20 o più anni per le fanciulle in Giovanni Villani e la misura per Dante accanto all'esaltazione della pace della giustizia e della moralità coniugate con una dignitosa sovraetà di risorse un altro motivo costante nella rievocazione del passato mitico e cittadino appare infine quello che abbiamo definito il mito eroico municipale celebrato come attitudine alla guerra dai primi autori sottolineato da Rolandino come costume cavalleresco ripreso da Riccobaldo nella rievocazione della virorum gloria dei tempi di Federico II consistente nella disponibilità di armi e di cavalli e cantato da Dante nella rappresentazione dell'avo cacciaguida autentico esponente del tempo mitico fiorentino come cinto della milizia dall'imperatore Corrado si tratta c'è da aggiungere di una virtù militare la cui idealizzazione risponde ormai alla cosciente elaborazione di un sentimento patriottico espresso con maturità dal villani nella rievocazione della lealtà dei cittadini tra loro e al loro comune seppur a un rapido confronto gli elementi strutturali della rappresentazione del tempo storico della città come tempo mitico sono rintracciabili con continuità negli autori cittadini dall'undicesimo al quattordicesimo secolo come costanti dell'immaginario collettivo urbano l'individuazione delle presunte cause della decadenza appartengono più propriamente all'uso strumentale che della sua rievocazione viene fatto la consonanza di due autori pur separati da due secoli mette tuttavia conto di considerare la possibilità di riproporsi delle medesime connessioni mentre l'andolfo signore tende a interpretare il mutamento in chiave religiosa politica e riccobaldo in senso morale tanto rangerio quanto dante si riferiscono a un turbamento dell'ordine provocato in prima istanza da cause sociali l'inurbamento di avidi villani e il conseguente incremento demografico ma nonostante le costanti strutturali e causali del mito l'identificazione del tempo mitico con tempo storico circoscritto cronologicamente risponde a precise e contingenti esigenze retoriche denuncia cioè una cosciente manipolazione del materiale mitico o tecnicizzazione da parte degli autori medievali come già per virgilio e per giovenali il riferimento a uno stato originario di ordine morale e sociale svolge una funzione polemica nei confronti di un montamento in atto per l'andolfo signore e per angerio è una polemica contro le rapide trasformazioni della società cittadina della metà dell'undicesimo secolo per i cronisti fiorentini contro la crisi delle istituzioni del principio del quattordicesimo per tutti l'antidoto è rappresentato da un ritorno alle origini comunque collocate nella storia di ciascuna città il tempo mitico cittadino si manifesta così come espressione di una volontà conservatrice e denuncia su ricomparire i momenti di crisi e di trasformazione degli assetti sociali conservatrice abbiamo detto in quanto un ritorno alle origini presunte significa un rifiuto dei cambiamenti e il caso apparentemente anomalo di Mosè del Brolo e della sua esaltazione del presente conferma paradossalmente questa interpretazione in quanto intende celebrare le origini di una rigenerazione quale instaurata dal nuovo regime politico giudicato come il migliore possibile aureo a scanso di diverse sperimentazioni in questa prospettiva la distanza che separa il mito eziologico strumentale e il mito storico del tempo felice non sembra poi insormontabile come infatti il mito di fantasia spiegava l'origine di certi nomi o di certi riti urbani così il tempo mitico vissuto storicamente dalla città ne spiega il comportamento originale e dunque ottimale collocandosi con valore esemplare come conservazione di un certo ordine sociale l'immagine dell'età dell'oro in conclusione può nascere come aspirazione universale dell'inconscio collettivo e come tale si ripropone nel tempo a prescindere dal regime sociale e politico ma nel momento in cui viene fatta propria dalla cultura e della classe dirigente e circoscritta a un preciso tempo storico individuato come tempo mitico anche nel mondo cittadino italiano diventa inevitabilmente pur senza perdere la struttura di un mito costante strumento di persuasione politica di un'estertale un'estertale la struttura e di un'estertale d'are la struttura